ma tutti ragazzi sopra gt e bentornati in questo nuovo video oggi siamo di nuovo con qualche nuovo discorsetto per quanto riguarda la comunità al giorno d'oggi un altro discorso che gli prendono le varie cose che avevo detto anche nei discorsi video nei video successivi di come è messa al giorno oggi la socializzazione la comunità che a parte vabbè che sappiamo che anzi i più intelligenti non tutti lo sanno ma i più intelligenti sanno che è un po' messa male la situazione non è il massimo vabbè io ci volevo cioè tenevo un attimo approfondire un po' di più il discorso non sempre riportando le stesse cose perché dopo un po' diventa ripetitivo ecco quindi tipo in questa diciamo questa relazione che hanno fatto vedendo no fra i vari adolescenti com'è com'è che socializzano alcuni vari si è visto che ormai vabbè socializzazione c'è un cazzo perché adesso poi soprattutto adesso con i canali i canali di whatsapp i canali di whatsapp che è pieno di gentaglia non vi immaginate che è pieno di gentaglia di merda pieno di gentaglia di merda non proprio tutti eh non proprio il cento però la maggior parte è gentaglia di merda che c'è in quei canali che io non consiglio poi oh uno è libero di fare quello che ci sono stato anch'io per quello che dico se non l'avete nemmeno detto se è una cosa che non ci sono mai provato non ci sono mai stato però io io che ci sono stato io lasciare perdere questo tipo di cose piuttosto conoscere persone più che ti trovi davanti ecco perché per telefono arrivano mi dai la tua foto e poi arrivano i pervertiti arrivano eh ce n'è di roba che lasciamo perdere proprio comunque eh ah si tengo prima di proprio andare proprio un argomento argomento fondamentale eh ci teneva anche sempre su questo fatto qua che c'è la socializzazione non vuol dire solo che c'è il compagnuccio di scuola c'è soltanto quello e basta compagnuccio lì del banco lì al banco a fianco migliore amico bbf che cazzo è quella roba lì non è che ci sono soltanto quelli eh soltanto la tua classe sono tutti conoscenti la classe poi vabbè c'è chi si conoscono eh anch'io parlo perché ovviamente a scuola ci sono stato pure io eh comunque c'è ovviamente eh poi anche ma anche fra varie classi non 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 per forza la stessa classe magari anche di altre classi di altre della stessa scuola magari un'altra parte altri diciamo indirizzi altre cose ci si conosce anche da lì eh ovviamente magari all'intervallo quelle cose lì ovviamente magari anche lì un po' di conoscenza si ce la fa però diciamolo diciamo adesso è più faticoso fare conoscenza con qualcun altro lì fuori della tua classe perché è quello c'ha paura è quello è l'altro è timido ecco l'altro non so boh cosa gli passa per il cervello e quindi poi questo catena diciamo catena domino di situazioni va da portare che poi o ti fai ti fai spammare canali gruppi e robe varie o se no tramite i tuoi amici devi conoscere un'altra persona tramite i tuoi amici che magari forse sono più socievoli o comunque tramite altre persone perché quella persona è in grado di e quindi succedono queste varie cose diciamo così quindi a volte adesso soprattutto si ricorre tanto agli spam che che secondo me è sbagliato ecco ricorre agli spam per me è sbagliato dovrebbero anzi innanzitutto dovrebbero chiudere tutti gli spammer che hanno creato e fare più solidizzazioni da esterno non tramite la tastiera il telefono mi mandi la tua foto alcuni sono pervertiti alcuni che lasciamo perdere io non voglio nemmeno dire quella quelle cose lì perché lasciamo perdere proprio alcuni si comportano in modo che come vi ho detto ce n'è quella lì ma quello lì c'è un bel culo quello c'ha il palestrato quelle cose lì comunque perché poi vabbè sappiamo che al giorno d'oggi poi la maggior parte piace quel genere lì ma lasciamo perdere proprio è lasciamo perdere ma poi c'è anche il fatto c'è anche il fatto aggiungo dire che se tu vivi in una città poi vabbè non è per forza una città un paese un borgo cazzo è poi ci vivono altri due coetane ragazzi 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 se tu c'è tu vabbè fai la tua vita non so vai a scuola fai allenamento sport o vai a lavorare quelle cose lì ti fai la tua vita tranquilla lavoro casa magari anche qualche uscita qualche sport qualche volta allenamento non so e ci vivi da un bel po' 10 anni anche da quando ci sei nato poi c'è sì ok però comunque anche se ci vi da tanti anni ci sono certe persone che socializzazione zero che ti dico non che ti dico che magari pensano pensano gli altri quello che non pensi tu che potresti anche pensare tu che magari qui una persona ci arriva anche a capirlo no dopo un po' eh ma te ma se tu se tu non sei conosciuto in questa città nessuno ti caga è come se tu fossi uno sconosciuto non sei nessuno sei un fantasma che vaga nella città è come se tu fossi morto esistessi nemmeno cioè fossi morto nel 1800 la stessa cosa ovviamente ma che cazzo di ragionamento è che cazzo di ragionamento è se una persona fa la sua cazzo di vita lavoro a casa studio lavoro allenamento casa studio allenamento cioè tu allora fai quella vita lì eh no eh 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 ma lui eh ma lui non viene nemmeno eh non viene nemmeno chi è che non viene nemmeno chi è manca socializzazione manca la comunità comunità questa è la comunità d'oggi se tu nella città non sei conosciuto tu sei la merda se la merda lì sapete quella delle marciapiede lì la merda ecco la merda delle marciapiede lì isolata eh se tu sei conosciuto minchia cos'è bisogna essere Mahmood bisogna essere Mahmood per essere conosciuti nelle città scusa cioè devi essere conosciuto nella città devi essere Mahmood che è famoso devi essere famoso di ocani cos'è devi ah per attirare l'attenzione devi fare le cazzate ovviamente come è successo l'altra sera facevano le risse eh le risse sono tutti finiti all'ospedale facendo le risse qua eh nelle piazzette nelle vie no della città facevano le risse poi c'era anche una ragazza in quelle risse lì che sicuramente avranno avuto qualcosa che non so nemmeno io ma io non entro non mi c'è non ne parlo nemmeno è per dire comunque che che tu per farti per fare attirare l'attenzione per fare attirare l'attenzione tu devi fare una cazzata o quello che fa l'impennata con la moto davanti e ai ragazzi e le ragazze soprattutto le ragazze perché tanto lo so che fanno così per farsi andare tutte dietro le pennate con la moto no farsi vedere grande a meno che un giorno non ti fai un incidente di sparchi la testa con la moto o con la bmw con la macchina la porsche ultimo modello la mercedes ag 350 con di quel motore vum vum fai così tanto per no fare davanti alle ragazze per fare vedere che c'è il macchinone io c'ho il macchinone io la ducati io c'ho la ducati la ducati io c'ho da 50 mila euro 40 mila euro io c'ho la ducati zio cane la ducati io tradurlo in quel posto la ducati sai dove te la metto la ducati e sai dove te la metto la ducati in quel posto ok o fare le visse fare le visse per per causare la situazione no mi faccio vedere che io sono il più forte di tutti io sono il più forte arriva anche il palestrato no che fa così con i muscoli fa così io sono fortissimo vado in palestra per rimorchiare le pischelle ci sono quelli lì che lo fanno è vanno in palestra per cercare di rimorchiare vanno in palestra per non perché gli interessa qualcosa del fisico proprio di stare bene stare in forma no ma no io ma che cosa dici se io fossi andrei al mcdonald tutti i giorni a mangiare schifezze porcherie panini no io vado in palestra perché ci sono dei ragazzi se no non mi cagano l'aspetto fisico quello che conto bei muscoli le vene che si vedono ma andate a fare in culo voi della vita non avete capito un cazzo non avete capito un cazzo un cazzo un cazzo avete capito un cazzo avete capito non c'è bisogno di andare in palestra a farsi vedere i bicipiti quadricipiti grossi così con le vene per cercare di conquistare sei un poveraccio se sei un poveraccio poveraccio senza cervello un poveraccio senza cervello sei per pensare una roba del genere perché è al di fuori del normale sta cosa ma dell'intelligenza umana è al di fuori al di fuori per cercare di conquistare di farsi di farsi attirare l'attenzione soprattutto le ragazze fanno quello per farsi riconoscere nei paesi ci fanno quello perché se no tu sei la merda tu sei la merda solo tu sei quella merda lì per te basta non vale un cazzo sei la merda sei quello sei soltanto quella la merda che non vale un cazzo è questo il ragionamento d'oggi è questo è questo vivere in una città che non ti ha mai carato nessuno o magari in tutta la vita a parte i compagni di compagnucci di classe al di fuori di quello magari una persona massima te l'ha carato te l'ha carato che poi ti dicono ma conosci quello ma conosci quell'altro ma io conosco nessuno non mi caga nessuno in questa città chi è che conosci quello con l'altro con il su e giù che cazzo è chi cazzo so non l'ho mai vista nella mia vita mia magari l'ho vista in giro così ma chi li conosce perché non sei carato perché tu non fai le risse non vai nei campetti no nei campetti lì calcio che basca nei campetti lì che fai il figo fai il figo nelle partite o non ti mostri i bicipiti davanti ai ragazzi davanti ai ragazzi i bicipiti o non fai le pennate con la moto no con la moto o con la macchina fai sentire il motore come il rombo del motore il rugitolo dal rombo della macchina perché non fai quella allora tu non sei carato poi arrivano su spotted 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 su instagram spotted non so milano spotted roma spotted liguria spotted veneto oh ho visto quello quello con la moto che faceva l'impennata chi è? chi è? mi potete dire chi è quello lì con il che faceva l'impennata con la moto con la maietta filmata della Gucci della Nike con le scarpe della Nike quello lì con la Ducati con la Honda chi è quello lì? chi è? chi è quello lì con la moto? chi è quello lì con la BMW? con la Mercedes? con la macchina che ha fatto i rugiti di rombo con la macchina? chi è? voglio conoscerlo chi è quello con tutto vestito bene firmato vestiti da mille euro chi è quello? voglio conoscerlo chi è? chi è? chi è quello che ha fatto le risse? le risse nelle piazze nelle vie nella città di notte di sera le risse chi è? voglio conoscerlo voglio conoscerlo chi è che ha fatto le risse? zio cane uh chi è? uh chi è quello lì palestrato? mamma mia che figo della madonna mamma mia vai vite via ma avete visto che muscoli che petto avete visto che addominali al mare avete visto? mamma mia oh voglio conoscerlo spotted scrivito spotted DM oh voglio conoscere quello lì con gli addominali eh sugli spotted oh anche sugli anche sugli spam eh sugli spam oh voglio conoscere oh magari oh magari quello lì no che il fighetto che fa il ciuffetto no i capelli viola io mi faccio la tinta ai capelli mi faccio qui bianco e qua viola qua mi faccio blu o platino biondo platino mi faccio qua sopra io mi faccio un figo eh sapete eh mica sono quelli lì che sono sempre lo stesso look che schifo cringe cringe quello lì che schifo zio ma che cazzo ma dove siamo arrivati ragazzi ragazzi ma dove siamo arrivati cari iscritti ma dove siamo arrivati cari iscritti ma dove 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 siamo arrivati ma dove dove la conoscenza di una persona di una persona non si basa non si basa sul ciuffetto sulla macchina sull'impegnata con la moto sulla vestiti firmati Gucci e tante altre marche sulle scarpe firmate su sugli addominali bicipiti non si basa su quello non si basa su quello teste di cazzo teste di cazzo non si basa su quello non si basa su quello ignoranti come delle capre non si basa su quello si basa su volere socializzare con le persone farci amicizia conoscere una persona che non c'entra se sei figo o meno che pure per fare amicizia con la persona tu devi essere figo eeeh eeeh devi essere figo devi avere bicipiti devi avere il ciuffetto i capelli di platino la ducati devi avere la ducati la moto la ducati devi avere quello la yamaha la no come yamaha la yamaha la moto yamaha devi avere la bmw la la porsche devi avere la tesla come macchina zio canta farsi riconoscere eeeh quanto il mio amico c'ha la yamaha c'ha la moto yamaha lui sulle strade va 150 l'ora con la moto eeeh ne vai fiero no che vai 150 l'ora sulle strade 150 l'ora finchè non fai un incidente fai 150 l'ora e fai lo scemo per strada il cretino fai eeeh per strada con la bmw la yamaha la ducati fa lo scemo di deficiente o sennò per strada con la maglietta alzata con i bicipiti gli addominali no scolpiti eh con quello che poi la maggior parte si doppano si fanno le siringhe gli steroidi no tanto che grazie se ne frega no basta che io mi faccio vedere che c'ho il gran fisico poi se mi faccio se mi faccio del male chi se ne frega la salute ormai è quella cioè veramente è una cosa incredibile che non si può non si può ma io ne vedo in giro ne vedo in giro ne vedo ne vedo quando voglio riuscire nel tempo ne vedo in giro ne vedo quello lì coi bicipiti quello lì in maranza in maranza che fa le risse per strada che fa il grande no che fa il grande arriva quello davanti che non conosce nemmeno e fa che cazzo vuoi ma chi cazzo sei vi ti spacco la testa io ti spacco ma chi ti conosce a te chi ti conosce o i ladri le baby gang i ladri no tu c'è il mag supio qua un secondo non ce l'hai più sparito è scappato con il mag supio zio can il gang bang baby gang no baby gang proprio che schifo zio can che schifo che schifo io monica vabbè e niente comunque non funziona così la socializzazione si basa a fare amicizia con le persone quindi non c'entra fisico coso soldi conti soldi guys è quello lì perché perché la maggior parte no eh ma io c'ho un amico che c'ho la Honda che va a 150 io c'ho un amico che c'ha la BMW che c'ha la Mercedes io c'ho un amico che c'ha i bicipiti i quadricipiti io c'ho un amico che c'ha tutta la roba firmata no di Gucci io c'ho questo io c'ho quell'altro il ciuffetto il biondi platino viola blu qualsiasi colore cioè intanto è quello che conta è quello che conta non conta la conosce il rispetto reciproco divertirsi insieme nel tempo libero no no eh sì chiedi troppo chiedi troppo la stessa cosa vale anche per la relazione se uno vuole una relazione pensando che sta cercando il tipo con il quadricipiti con il ciuffetto o che abbia i soldi sia ricco BMW Honda anche lì si è sbagliato ti sei sbagliato sbagliato con il trattino A sbagliato sbagliato vi siete sbagliati vi siete sbagliati sbagliati proprio ma vi siete proprio sbagliati ma proprio una maniera non funziona così non funziona così questo non è ma non è nemmeno non si chiama nemmeno vero amore perché è una cazzata avere volere uno per l'aspetto fisico tu mi mandi la foto per vedere se sei figo o meno non è quello l'amore ma che cazzo è ma cos'è ma cos'è eh no ma ma guarda che conta anche l'aspetto fisico conta perché il ragazzo deve anche piacere ovviamente eh eh ma il problema il problema è che si guarda soltanto quello non come uno come una persona caratterialmente se se fa schifo se è fattibile se non è fattibile se è una merda no no eh prima il fisico prima quello poi un cazzo poi sono tanto il fisico l'aspetto l'aspetto di carattere no ma che carattere io voglio i tipi figli ma via va così funziona vabbè comunque così concludiamo ehm adolescente i giovani giovani nativi digitali vivono un bisogno fondamentale di socializzazione social network si perché adesso si fanno tutti spammare io non dico nemmeno il nome dello spam perché però dovrebbe chiudere perché secondo me è meglio che faccia così dovrebbe chiudere ma poi ci devo fare una sollecitazione a questa persona io di persona comunque ehm quindi a tal punto che la realtà virtuale condiziona la loro vita reale perché vai al mare vai di là vai al parco vai a panchina vai tutti col telefono con whatsapp gli spam no con quello con gli spam con facebook con badu badu i siti di di incontri app instagram spotted milano spotted di qua spotted di là ma che cazzo è ma che cazzo è se ti interessa conoscere la persona se vuoi fare amicizia in giro ne trovi di ragazzi di ragazze con cui fare amicizia zio cane zio cane vai a farci una conversazione non so un aperitivo al bar tempo libero al parco al mare che non lì con il whatsapp così col telefono c'è scritto tipo buono cerca amicizia tipo buono mi mandi una tua foto che tipo mamma mia figo vai scriviamoli subito vai rispondiamo ma vai a cagare vai vai a cagare vai a cagare ma vai a cagare veramente vai a fare in culo vai vai a fare in culo devi andare nel cesso e sprofondati nel cesso sprofondati lì dentro sprofondati poveri scemi comunque socializzazione digitale per adolescente avviene il momento della vita in quell'evoluzione psico sociale non è ancora compiuta in questi progetti non più bambini con ancora adulti ragazzi ragazze devo scoprire che l'individuo dà costruire attraverso le esperienze per tratto di abitare la vita il territorio ragazzo deve esplodare il mondo infatti non costruisce la sana una relazione senza la propria identità sempre di più online comunque c'è vabbè fare una seconda parte non tutto oggi ragazzi è un po' lunghetto non lunga ma lunghetto comunque è vero è vero cioè noi concludiamo con queste ultime due parole che di mio pensiero è vero cioè la vera identità ma sana c'è come dire con una conoscenza sana avviene tramite la vita reale non tramite lo spam spotted badu quelle cose lì non viene tramite quelle cose lì non viene perché non è socializzare messaggini ma poi al giorno d'oggi al giorno d'oggi ci sono certe persone che hanno paura ma pure si conoscono per chat hanno paura a vedere altre persone ma perché queste non si sono conosciute dal vivo porco dio non sono conosciute dal vivo e quindi ovvio che l'altra persona magari non è una sana costruzione che ha avuto di un rapporto con quella persona perché magari ha paura di quella persona magari chi sia un soggetto di chissà quali perché vi siete conosciuti per telefono per chat non dal vivo porco è per quello il motivo quelle persone non vogliono hanno paura di vedere altre persone dal vivo perché quando è abituato solo a fare chat gli spam e io cerco amicizia cerco tipo cerco fila e poi se bisogna vedere no ma io io no è questo poi arrivano le scuse ma io devo andare le ore e poi non è vero eh perché quella persona non si fida c'è un po' c'è qualcosa proprio che a forza di fare gli spam a forza di stare con il telefono non può fare altro e se abitua a stare nella stanzetta la stanzetta dei 104 stanzetta quello lì sapete no a stare lì col telefono a fare un cazzo è quello il problema ragazzi non si può cioè è questo comunque che vuole dire è questo che vuole dire ma io ho avuto questi di questi casi ne ho avuti questi casi ne ho avuti che hanno paura delle persone farsi dire perché infatti è quello punto e basta non c'è tanto da dire non c'è tanto da dire è quello il fatto è quello il fatto e poi viene anche la depressione la depressione stando dietro il telefono aumenta anzi è peggiora la depressione dietro il telefono e continueranno a fare gli spam è grave è grave la situazione è grave la situazione vabbè niente io questa prima parte la concludo qua niente vabbè spero che questo video comunque sia stato utile da un punto di vista magari qualcuno ha iniziato a farsi un po' di pensiare di fletterci sopra qualcuno gliene frega un cazzo continua a fare quello che gli pare saranno cazzi loro io sinceramente è quello che intengo migliore ecco per salvare la comunità ma sai sapete ci sono quelli che non ascolto che ne frega un cazzo quando come gli pare comunque spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate io sapere anche un po' ragazzi che non commentate vedo visualizzazioni nei miei video ma qualcuno che mi dica un po' come la pensa eh voglio sapere un po' ragazzi qualcuno che la dica come la pensa il pensiero per confrontarsi un po' con qualcuno dei miei iscritti come la pensa cose che pensano che sia sbagliato che sia giusto io voglio sapere anche i pareri degli altri perché se non sento mai un parere di qualcuno è un po' comunque ragazzi niente noi ci ribecchiamo al prossimo video